buongiorno bentornati sul mio canale di armi e tiro di precisione a noi piace parlare di armi evidentemente per scopi sportivi oggi purtroppo non parliamo di questa cosa ma di un evento che ha segnato la storia sicuramente del mondo. Nella fattispecie l'evento dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy in quel di Dallas ad opera si dice e pare di Lee Oswald e della relativa arma che fu utilizzata per questo omicidio ovvero il Manlicher Carcano fucile italiano fucile utilizzato fucile di ordinanza italiano di ordinanza nella seconda guerra mondiale è un brevetto del 1867 di Carcano è un fucile appunto che era stato fatto per la commissione delle armi portatili di Parma ed era stato poi adottato dalle forze armate italiane non stiamo a farla particolarmente lunga non stiamo a raccontare la storia del Manlicher Carcano del fatto che fosse uscito all'inizio con un calibro successivamente ridotto al calibro 6 e mezzo il Manlicher Carcano era stato dai suoi detrattori era stato dei trattori in ambito omicidio Kennedy era stato definito poco efficace poco efficiente in funzione del fatto che era era stato definito un'arma innocua perché era stato chiamato un fucile umanitario il concetto di umanitario però è assolutamente sbagliato nel senso che era riferito al tipo di munizionamento che non si frammentava e di conseguenza nel come era previsto dalle convenzioni del periodo ci mancherebbe e non si frammentava all'interno del corpo per cui umanitario mica tanto se ti piglia una palla a velocità supersonica calibro 6 e mezzo ti fa dei disastri terrificanti per cui chi dice arma inadatta a uccidere dice una scemenza di proporzioni galattiche la commissione che indagò sull'omicidio Kennedy la famosa commissione Warren aprirò che il carcano era stato comprato da sottofasso nome dall'Iarway Oswald per corrispondenza e gli Stati Uniti sono così si fu consegnato a una casella postale di Dallas intestata a tale Alec Hiddle pseudonimo si dice utilizzato appunto dal signor Oswald sì ci sono le famose foto per quanto contestate che ora mettiamo di Oswald con il fucile in mano e la nostra moglie diceva appunto che lui si allenava spesso a caricare scaricare il fucile si sono fatte delle considerazioni molti hanno sollevato dubbi sulla capacità di sparare tre colpi nei tempi accertati qui incominciamo qualche dubbio da verciano nel senso tre colpi se non ricordo male in otto secondi con un fucile che va ricaricato di volta in volta e bisogna riprendere la mira tutte le volte insomma è uno sparare abbastanza seconda abbastanza veloce furono fatti comunque degli esperimenti furono sparati un centinaio di colpi con questa con questa arma non si incertò ci mancherebbe altro è talmente semplice e si dice che nella prima serie di colpi tre cecchini cioè i tre specialisti a questo punto sperarono in tempi contenuti cioè tra i cinque secondi e gli otto secondi e due nella seconda serie i tempi variarono tra i cinque e i sette secondi colpirono il bersaglio più vicino e cinque volte su sei quello più lontano perché appunto furono messi dei bersagli a 55 80 e 90 metri che sono le distanze di sparo appurate per quanto riguarda l'omicidio Kennedy e fino qui insomma voglio dire difendibile la questione nel senso che si può andare a dire che effettivamente una persona che meno male sa sparare probabilmente quei colpi gli avrebbe potuti mettere e avrebbe anche potuto potenzialmente centrare i bersagli però adesso facciamo qualche considerazione però intanto vi metto alcune foto così tiriamo un respiro di sollievo questo punto però facciamo una considerazione di carattere più generale cioè non mi interessa un discorso cospirazionista nel senso che qui bisogna capire bene una differenza fondamentale che ultimamente anche alla luce degli ultimi schieramenti pro novax eccetera eccetera e in generale di quello che è diventato la tendenza soprattutto nei social una tendenza che io trovo abbastanza preoccupante ovvero il fatto di voler avere maggiori informazioni volere capire e porsi dei dubbi non significa necessariamente precostituire delle tesi ok per cui se io chiedo mi spiegate come hanno fatto gli astronauti a passare indenni dalle fasce di van allen noto chitarrista come sapete ebbene qualcuno mi risponderà ce l'hanno fatto perché si sono fatti degli esperimenti da cui si è visto che la protezione dell'astronave era tale da non creare dei problemi la cosa è scientifica evviva siamo tutti contenti e nessuno può mettere dei dubbi ma il fatto di chiedere è più che lecito e il fatto di chiedere non significa di conseguenza essere come si dice terrapiattisti cospirazionisti eccetera ok il che significa è sacrosanto porsi delle domande perfetto ci tengo a questa cosa perché un conto e porsi delle domande ripeto un conto è poi dietro a queste cose prospettare delle delle tesi io non sto prospettando alcuna tesi mi piacerebbe capire meglio alcune cose tempio qualcuno ha sostenuto che lì a me oswald fosse un pessimo tiratore non ci sono riscontri in tal senso anzi e lì ha avuto un addestramento nei marines tra l'altro anche un addestramento al tiro come testimonia il diploma che ora rimetto quindi contro ogni tesi cospirazionistica almeno quello che è stato sostenuto da alcuni che propongono tesi cospirazionistiche e alway oswald era un tiratore presumibilmente anche un tiratore più che discreto perché ha avuto addestramento specifico con la m1 fucile di ordinanza statunitense nella guerra e nel primo dopoguerra di conseguenza addirittura io pensarei il contrario mi aspetterei da harvey oswald una certa serie di conoscenze dal punto di vista del del tiro con il fucile più o meno di precisione facciamo considerare alcune considerazioni un'altra delle delle tesi erano non soltanto sull'umanità del del carcano e ripeto un fucile con un proiettile che esce a velocità supersonica e calibro 6 e mezzo c'è poco da essere umanitario e tant'è che si usano in guerra per ammazzare la gente non è che i fucili li usi per dare la benedizione urbi e torbi si diceva il manlicher carcano non era sicuramente famoso per essere il fucile da sniper più più preciso qualche dubbio l'avevano sollevato i nostri tiratori però insomma abbiamo detto si può si può utilizzare eccetera si può soprattutto utilizzare in funzione del fatto che si faccia un certo tipo di addestramento sul fucile stesso e qui qualche dubbio salta fuori lì harvey oswald avrebbe precedentemente già sparato tentato di uccidere il generale walker sparandogli da praticamente dal giardino appena fuori dal giardino di casa del generale walker mentre era sera il generale walker era all'interno del di casa sua vicino alla finestra in splendida condizione di di rilievo risultava come ombra rispetto all'illuminazione interno è al buio ster e di harvey oswald da distanza sicuramente non rilevante pare manchi il bersaglio nel senso che se non ricordo male soltanto lo ferì il generale e che il colpo in qualche modo impattò nella finestra e qui insomma va bene dovresti essere capace di sparare dovresti essere eventualmente capace e nel giro di facciamo sette secondi diviso tre fa due secondi e qualcosa di mettere almeno secondo colpo in due secondi quando la persona a cui hai sparato si ritrova praticamente ancora nell'identica posizione nessuno ha mai catturato evidentemente perché era poi a piede libero il oswald per questa cosa ma ciò nonostante pare avesse sparato anzi ci sono le prove che ha sparato con un fucile diverso fucile che poi avrebbe sepolto e non si capisce il motivo se non quello di non correre il rischio che qualcuno lo andasse a prendere e potesse trovare un fucile riconducibile a insomma la vedo un po complicata comunque il buon oswald mediante abbiamo detto una un'inserzione di vendita corrispondenza si fa arrivare il suo bel manlicker con su un'ottica se non ricordo male 4 5 6 ingrandimenti dopo ve lo dico per certo comunque poca roba non c'è bisogno di grandi di grossi ingrandimenti e per utilizzare le ottiche nelle gare di tiro con la carabina 22 production e super production le le ottiche vengono fissate e inchiodate diciamo a sei ingrandimenti per cui non c'è bisogno di questi e tenete conto che con una 22 in condizioni di bersaglio fermo si va a sparare un bersaglio di pochi millimetri ok il 10 sono pochi millimetri e a una distanza di 50 metri il signor oswald aveva intenzione di sparare a nel primo caso generale worker che è sicuramente più grosso di qualche millimetri e successivamente con delle modalità curiose al john figgerald kennedy per cui da questo punto di vista c'è questa ulteriore considerazione cioè fucile non eccezionale lui ne aveva un altro non so in che condizioni ha sparato a walker non l'ha preso l'ha preso poco e male insomma rispetto alle sue intenzioni va a ordinare un mallicker carcano che secondo me poteva insomma decidere di andare a comprare qualcosa di un pochettino più serio un pochettino più adatto comunque al alle capacità di qualcuno che il corso aveva fatto poteva comprarsi il fucile con cui aveva fatto l'addestramento tra l'altro un fucile americano tra l'altro un fucile senza bisogno di ricarica non la retrocarica come appunto il fucile m1 che aveva utilizzato e va bene questo non lo fa dicono non c'aveva soldi se non c'aveva soldi però il giorno dell'attentato kennedy lascia sul sul comodino della moglie con cui era separato un bel blocchetto di banconote per cui insomma forse qualche lira ce l'aveva facciamo qualche altra considerazione adesso dunque dunque vedete nella foto nel quale sono immerso per così dire il punto di vista anche se evidentemente JFK era girato dalla parte opposta perché la macchina si stava allontanando ok diciamo però il punto di vista della direzione di di JFK chiamiamolo così ripeto il punto in cui si trovava potenzialmente o comunque la strada che stava che stava percorrendo si stava allontanando era girato dall'altra parte è importante questo fatto come vedete guardando il l'edificio che è il famoso l'allora deposito di libri il famoso edificio in cui dalla finestra sparò Oswald vedete che anche le finestre dei piani più alti hanno in qualche modo in mezzo alla alla visuale delle piante e quelle quei segnali stradali se non ricordo male si tratta di un semaforo quelli grigi che vedete sormontare la strada appunto il che significa innanzitutto di avere un certo un certo fastidio soprattutto sul primo colpo quello più vicino è un disturbo tra l'altro un colpo con un angolo di sito cioè l'angolo di inclinazione a cui deve essere messa l'arma che va a modificare la taratura delle distanze ma questo è un discorso in cui poi parliamo un pochettino più avanti comunque una situazione di disturbo e un'ulteriore situazione di disturbo legata al fatto che io comunque non ho un bersaglio fisso il che significa che tra un colpo e l'altro devo comunque riposizionare il mio fucile in funzione del fatto che la macchina si sta allontanando tra l'altro non è un tiro dritto un tiro storto anche questa è una considerazione che dobbiamo fare adesso vi faccio vedere una foto differente questa invece è la foto della strada è una foto attuale evidentemente c'è un discreto palazzo moderno poco avanti però non è cambiata la strada c'è la foto della strada che conduce alla alla svolta che poi con il corteo di kennedy compie e dove vedete appunto la libreria e il deposito dei libri il che significa che il corteo sta arrivando con in testa la macchina di kennedy e tutte le macchine del corteo dietro di essa in direzione della appunto del deposito di libri e in direzione della finestra da cui c'è oswald che aspetta per sparargli cosa fa il corteo il corteo arriva gira a velocità molto il corteo andava pianissimo perché c'erano di fianco gli uomini dei servizi della cia della protezione della scorta del precedente che erano a piedi e camminavano a piedi nell'immagine in una delle famose immagini del video poi registrato da Zapruder e che comunque il fotogramma lo mettiamo più avanti si vede che quando la macchina dopo che kennedy viene colpito se ne va e riparte uno degli uomini della scorta a piedi fa in tempo a salire sulla macchina per cui la macchina andava sicuramente piano il corteo andava a come si dice a passo d'uomo cosa succede quando io mi avvicino quando io sono sto andando verso il il bersaglio o meglio facciamo una considerazione contraria mettiamoci brutta cosa un attimo nei panni di del dello sparatore che sta aspettando il convoglio per sparare a kennedy si ritrova una finestra che davanti a sé a l'arrivo di un convoglio un convoglio a velocità d'uomo a velocità di passo d'uomo ok e cosa succede se io mi avvicino che il mio bersaglio non fa nient'altro che ingrandirsi più viene incontro più come vedete diventa grande grande sorperta ho appena fatto non soltanto ho anche un bersaglio più scoperto perché essendo io in alto ho un bersaglio praticamente di tutto il busto testa e busto a differenza di un bersaglio che se poi si allontana ho soltanto la testa come potenziale bersaglio perché dietro di me testa un pezzo di spalle sì perché dietro di me c'è il bagagliaio del della macchina per cui il bersaglio è più ridotto morale soluzione 1 si sta avvicinando ho un bersaglio che si avvicina e si ingrandisce ed è diritto il fatto che sia diritto mi dà anche la possibilità di sparare dall'interno per cui se sto anche un metro più indietro e nessuno mi vede non è cambiato niente perché il bersaglio è sempre lì e si avvicina cosa fa oswald aspetta che kennedy giri si allontana che passi tra bene o male dietro alle piante e al semaforo che abbiamo visto si deve esporre perché a questo punto oswald non è più all'interno ma deve andare sul bordo della finestra mettersi storto angolo di sito l'angolo di sito lo ce l'aveva anche in dirà ok però non con un tiro di fatto dritto ma con un tiro storto e che in qualche modo deve alzare deve modificare l'angolo di sito perché la macchina avanza ma si deve anche leggermente spostare a destra in funzione del fatto che la macchina appunto si sta allontanando e non è dritta rispetto alla sua posizione facendo questa cosa oltretutto si espone perché la gente e ci sono dei testimoni che dichiarano di aver visto qualcuno la finestra ok per cui si espone si fa vedere e che permette in qualche modo subito di identificare qual è la finestra da cui oswald ha sparato abbiamo detto che oswald è un esperto questa o comunque ho preso un totale che ha fatto un addestramento militare l'addestramento militare al fucile soprattutto con un fucile che era un fucile utilizzato dai tiratori scelti di battaglione dei marines non ve lo fanno per farvi vincere le ochette alla fiera del paese ve lo fanno in funzione del fatto che dovete sparare qualcuno ok per cui da questo punto di vista la scelta di oswald di non sparare un bersaglio in avvicinamento che non può che ingrandirsi ripeto sparo il primo colpo se anche non lo prendo sul secondo colpo è solo un po' più vicino ed è concettualmente sempre lì è veramente incomprensibile questa scelta in cambio di un bersaglio in allontanamento in cui più si va avanti con la sequenza dei colpi più diventa il bersaglio piccolo con minore esposizione rispetto a quella frontale e con una via libera per l'autista se io sparo al primo del se sparo da dietro al primo della fila questo scappa può scappare se io sparo al primo della fila con dietro tutte le macchine mi ritrovo nella situazione che questo non può fare nient'altro che avvicinarsi perché se anche a questo punto l'autista che invece reagirà e scapperà dopo un dopo la sequenza dei colpi di oswald nella direzione appunto libera per lui in quel caso se scappa cioè si avanza non fa nient'altro che avvicinarmi il bersaglio si prova a mettere la retromarcia si ritrova le macchine dietro cioè è incastrato lì no oswald aspetta kennedy lo lascia girare e si mette a sparare lateralmente è contemporaneamente un ottimo tiratore perché fa in sette secondi mette a segno tre colpi in un bersaglio più ristretto altra considerazione alle scuole di tiro dell'esercito ti insegnano che non si spara in testa si spara al cosiddetto bersaglio grosso alla distanza di 50 80 100 metri un colpo ripeto supersonico di un calibro 6 e 5 sparato all'interno del busto fa un disastro ok fa un macello se poi come in questo caso gliene spari due o tre stai certo che non si salva il signor kennedy ok no vado a tirare un bersaglio più piccolo che è la testa tra l'altro più mobile perché se io vado in macchina la testa si può muovere il busto di fatto rimane sempre lì e se non colpisco qui e colpisco qui o colpisco qui non è cambiato assolutamente niente scelta veramente incomprensibile per una persona che comunque contrariamente a quello che sostengono tante tesi cospirazionistiche presumibilmente è quello che dicono quelli che non credono alla tesi cospirazionistica ah no ma Oswald sapeva sparare era molto bravo sapeva sparare ma il suo sergente non sarebbe stato contento di lui il suo sergente istruttore ma così non è andata eccoci di nuovo qua siamo di nuovo nella posizione in cui bene o male nella zona in cui JFK viene raggiunto dai colpi sparati alle spalle sparati alle spalle non è andata eccoci di nuovo immagini terribili violente e drammatica si vede la moglie di Kennedy Jacqueline Kennedy che si distinto si tuffa per prendere sul cofano posteriore della macchina i pezzi di materiale cerebrale e di osso lei si trovava a sinistra rispetto a Kennedy per cui i pezzi vanno indietro e a sinistra rispetto a Kennedy indietro e a sinistra ma se io ricevo un colpo da dietro da destra perché quello era l'allenamento di Oswald i pezzi le parti dovrebbero andare avanti a sinistra indietro a sinistra fa presupporre che io ricevo colpo da dalla mia destra dalla mia destra e da davanti c'è qualcosa che non torna qualcuno ha parlato di uno strano effetto di risucchio di cavitazione del proiettile all'interno della testa tra l'altro le immagini dell'autopsia non hanno non mostrano la perdita di una grossa parte frontale perché se ricevo un colpo da destra dietro dovrei avere in uscita una grossa su un calibro così potente una grossa esportazione di materiale non lo so francamente io non sono in grado di spiegarla questa cosa ricapricciante non sembra però sulle parti esserci un grosso foro di entrata cioè soltanto un foro di entrata non un grosso foro di uscita con l'asportazione di tante parti e questa cosa è abbastanza contraddittoria non lo so io mi fermo qua non ho tesi cospiratorie ci sono dei dubbi che volevo condividere se qualcuno esperto o che ha seguito meglio di me la storia è in grado di dare delle spiegazioni di fornire delle riscontri interessanti gli sono soltanto grato io non voglio costituire nessuna tesi non voglio dire ci sono stati più sparatori non voglio dire non era stato Oswald c'era un complotto sono stati i russi sono stati i cubani è stata la mafia è stata la CIA eccetera eccetera la CIA nel rapporto della CIA se non ricordo male si parlava di uno sparo frontale e questa cosa i tre rapporti CIA, FBI e Polizia di Dallas non sono esattamente uguali questo è quanto sta di fatto che al di là di questa storia drammatica della morte di una persona così importante probabilmente il mondo quel giorno di novembre del 1963 è cambiato per certi versi in maniera definitiva stupisce un'altra cosa che appunto a novembre dell'anno prossimo saranno 60 anni da questo episodio e ancora una quantità spaventosa di documenti sull'episodio sono segretati e non sono accessibili diversamente da quanto prevede la legge americana che se non ricordo male parla di 30 o al massimo 40 anni per quanto riguarda i documenti riservati lo stesso Trump il presidente precedente a un certo punto nel momento in cui doveva così rendere pubblici determinati documenti non lo ha fatto dicendo questa cosa potrebbe mettere in pericolo alcuni funzionari quasi che vedendo questi documenti di 60 anni fa qualche agente segreto in giro per il mondo qualche funzionario tuttora al servizio degli Stati Uniti possa in qualche modo essere scoperto o messo a rischio non ce l'hanno la pensione? ce l'hanno, ce l'hanno la pensione anche negli Stati Uniti qui mi fermo nessuna considerazione soltanto la condivisione di un episodio con voi e l'occasione ancora una volta per incontrarci grazie per l'attenzione alla prossima